Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del canale come ben sapete da questa settimana le cose cambieranno un po' ovvero il martedì e il giovedì ci saranno dei video basati sull'arte, sul disegno e si sposta al sabato il B-movie questo nuovo format del canale dovrebbe essere definitivo per un bel 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 po' lo so, l'ho detto per altri cambiamenti che ho portato ma questo dovrebbe essere quello giusto e definitivo quindi, come avete letto dal titolo, oggi vi porterò ora nel canale la mia prima fanart su Willy Bush vado alle chiacchiere, vi lascio con lo speed drawing della fanart e noi ci vediamo dopo il video e noi ci vediamo e noi ci vediamo ciao 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 da un'altra persona quindi ragazzi io qui vi saluto e appunto ci vediamo, ci vediamo ciao